A un grande evento andrei sicuramente, la cosa importante è che ci sia un servizio di pubblica sicurezza adeguato e ovviamente che ci sia un pubblico che sia il più tranquillo possibile. Non lo so se ci andrò, non lo so. Hanno paura eventi a così alta concentrazione di persone oggi? Beh, sì però non credo qua nel territorio nostro, non così tanto. Bisogna avere un'attenzione più alta in caso di grandi eventi perché anche se questa è una città piccola comunque tra le basi americane e il Coespu ci sono abbastanza obiettivi sensibili, quindi direi assolutamente di sì. E poi ci sono gli entusiasti. Finalmente c'è qualcosa di figo da fare? Basta essere ben organizzati e credo che non debbano far paura, anzi devono essere un momento per ritrovarsi come è sempre stato. Tra le 40 e le 50 mila persone sono quelle attese a Vicenza per questa due giorni di Notte Bianca che coinvolgerà l'intero centro storico e che mira ad essere ricordata nel tempo. È una cosa veramente imponente e immensa, dislocata su tutto il centro storico, tutte le piazze, tutte le vie di accesso, piazze minori, piazze maggiori, tutti i vari collegamenti. Due serate intense che metteranno a dura prova le forze dell'ordine impegnate a sorvegliare che tutto fili liscio in un caleidoscopio di eventi dedicato a tutti. Ci sono spettacoli su tutte le piazze, in ogni piazza c'è un palco, in alcune piazze ci sono stand enogastronomici, in altre vie ci sono mercati di varia tematica, ce n'è per tutti i gusti, per tutti i target di età, per tutti gli interessi, anche per i bambini, per le famiglie.